Amore, tu sai che te, è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Tra se ne sto cancino l'ha fatto punto, che ha perso tutta la vita e pure un'uomo. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza di andare al cimitero. Così recitava Totò nella Livella, una poesia che spiega molto bene questo giorno ed il rapporto con la morte. Il maestro Antonio De Curtis scrive, recita e racconta di un marchese. L'uomo di nobile lignaggio dialoga con un fantomatico netturbino dal nome Gennaro, rivendicando privilegi anche dopo la sua dipartita. In quel lungo e dissacrante dialogo, Gennaro risponde alle provocazioni del marchese ed il principe della risata. Antonio De Curtis, nei suoi versi, allinea ogni differenza sociale ricordando che con la morte, prima o poi, dovremo fare tutti i conti. Il 2 novembre ricorrenza sentita anche a Foggia, dove onorare i defunti è un momento importante e sentito a cui tutti si fanno trovare pronti. Questa mattina al cimitero di Foggia ognuno ha portato un fiore ed una preghiera ai propri cari. Una sentita partecipazione anche alla messa, ufficiata da Monsignor Pelvi alla presenza di istituzioni, autorità, militari, forze armate, cui l'arcivescovo ha dedicato parole di riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente, con coraggio, nel rispetto e nell'amore del proprio paese. Flusso regolare disciplinato dai vigili della polizia locale, i pedoni hanno potuto raggiungere a piedi o con una navetta i loculi dei propri cari. A loro abbiamo chiesto circa i servizi cimiteriali. I servizi ci sono abbastanza, non si vedevano queste cose, questa polizia, queste cooperative che lavorano tutti quanti. Io li vedo perché ci vengo una volta alla settimana e vedo delle persone che lavorano tutti quanti. Quindi correntemente? Sono soddisfatto. Lei è soddisfatto tutti i giorni, perché lei non viene solo il 2 novembre quando c'è la cimiteria. Vengo ogni settimana, perché io ci tengo a venire al cimiterio, perché è un dovere di fare verso i defundi, perché i defundi non devono essere abbandonati, assolutamente. Penso che siamo migliorati, però è ancora zero, rispetto potrebbe essere molto molto meglio. Le strade, mamma mia. Sulle strade non è soddisfatto, sulla situazione della pavimentazione? Affoggio, figuri di cimitero che nessuno reclama, immagino in città è la stessa cosa, quindi potrebbe fare qualcosa di migliore. Vedo che comunque la manutenzione la fanno, la polizia dei giardini la fanno, l'unico problema è che dovrebbero un po' sistemare almeno le zone pedonabili. La pavimentazione. La pavimentazione, perché ce l'abbiamo già fuori in città, quindi almeno per i pedoni si cerca di fare qualcosa di meglio. Ci vogliono tante cose, ma... Mi dica una. Non lo so, per la polizia, una cosa più importante, che posso dire. E se ne occupa personalmente della polizia, della cura dell'opera? Qualche volta che vengo, sì, faccio un po' di polizia, non è che vengo tutti i giorni, qualche volta che vengo faccio qualcosa.